ciao a tutti benvenuti a un nuovo video di dark souls 2 sono qua nel castello di draglitz e qua vediamo un po se si riesce a evocare qualcuno che mi può dare una mano ok alè via vamos ragazzo vai andiamo andiamo vediamo un po se questo giovane donzello mi darà una mano a uccidere questo signore di lacca andiamo a portare le nostre anime no 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 Grazie a tutti. Perfetto, questo viene a rompere i coglioni solo a me. Corriamoci. E' stato sconfitto. E' stato sconfitto. Ok, abbandoniamo questo maledetto boss. Torniamo alla base. Faremo un altro tentativo. Ok. Vediamo un po'. Se qualcuno mi può dare una mano. Mi sono ricreati tutti i nemici. E via. Ok, buongiorno. Via, andiamo. Cioè, guardate che con un colpo ha già steso... Cioè, roba è da matti. Ok. Perfetto. Ok, direi che possiamo andare. Bene. Ho preso una grandissima trambata nelle gengive. E questo picchia sempre. E' una cosa incredibile. Ma che cazzo picchi me? Brutto gay. Picchia loro. Un tutto rispetto per i prossimi. Un tutto rispetto per i prossimi. Bellissimo. No! ok passa miglior vita grazie ragazzi e sia lodata mia sorella ciao a tutti ciao 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 perfetto i pip urrà i pip i pip urrà ok con questo video ci salutiamo qua ci vediamo prossimamente ciao a tutti da luca css ciao